Si chiama Gazzetta Cup 2010 ed è un'iniziativa che coinvolge tutta Italia ma che coinvolge anche Agrigento. Come? Sì, allora, incominciamo a precisare che la Gazzetta dello Sport, il nostro partner, si affida all'organizzazione del centro sportivo italiano, nello specifico CSE di Agrigento, per organizzare un torneo di calcio a 7 che prende il nome di Gazzetta Cup, che verrà fatto qui ad Agrigento presso la struttura Pinettina Socher. Le squadre coinvolte saranno 21, 12 della categoria Young e 9 della categoria Junior. È un torneo, ecco, il target di bambini, circa 200-220 bambini di età dai 9 ai 13 anni. Questa iniziativa nasce da una profiga collaborazione e un ottimo accordo che il CSE nazionale con le sedi territoriale ha fatto con la Gazzetta dello Sport. Il torneo di Agrigento permetterà di accedere alla fase regionale, successivamente in casa della fase nazionale? Sì, la fase regionale sarà fatta con le squadre che verranno a classificarsi, andranno a partecipare a Catania, ecco dove si terrà la fase regionale che poi la vincitrice parteciperà a Coverciano. Inoltre c'è un bellissimo concorso che tra queste squadre verrà quindi sorteggiata la squadra, e questa squadra verrà omaggiata di un soggiorno bellissimo a Coverciano per 5-6 giorni.